Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le Creazioni di Riri Oggi voglio farvi, diciamo, voglio fare due chiacchiere con voi e nel frattempo creo qualcosa Abbassiamo un pochino di più, ok Voglio creare con voi dei braccialetti Non so se li avete visti perché non so se appunto l'update ve l'ho già caricato Sono questi braccialetti col moschettone di perle Mia mamma le ha viste, gli sono piaciute ma li vorrebbe elastici E quindi ho deciso di crearglieli Mentre chiacchieriamo un pochino In cui vi racconto come sta andando un po' il mio percorso ultimamente Allora, io sto lavorando, diciamo, sto facendo il servizio civile E finirò tra poco perché finisco ad ottobre Mi sto trovando veramente molto bene E mi piace proprio il posto, mi piace con chi lavoro Mi piace perché appunto sono con i bimbi e tutto un po' Veramente mi piace molto 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 E forse... Ho sbagliato qualcosa Ok E mi piace moltissimo anche perché Sto imparando tantissime cose Ma proprio... Mi piace veramente tanto per questo Comunque sto imparando veramente tante cose E mi piace moltissimo Ok Ok ci siamo Le vacanze le ho finite Mi sono piaciute tantissimo Ero a Rimini E cosa dirvi d'altro Niente di che Nel senso... Adesso sto studiando per questa università Spero di entrare Perché veramente è il mio sogno E basta È tutto quello che vorrei dirvi Il braccialetto è così Come vedete È molto molto carino Voilà E adesso Li faccio anche arancione e verde È un modo Veramente semplice da fare Niente di che Era solo un po' per spiegarvi Come sta andando Se questi video vi piacciono Scrivetemelo Io proverò a farne degli altri Ho bisogno di sapere Che cosa volete sapere Più che altro Però per il resto È proprio Giusto per chiacchierare un po' Ok Va bene Basta Con questo vi saluto Vi mando un grosso bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.